grazie grazie noi diciamo sempre che Iperia è la città dello sport e mi sembra che oggi lo stiamo dimostrando io ringrazio l'associazione sportiva che ha organizzato questo evento vi porto un saluto dall'amministrazione comunale non sono il tipo che si mette a fare le film di 40 minuti sono veramente molto contento di essere venuto a fare oggi e di aver chiesto tutta questa gente contenta ringrazio quindi chi ha organizzato l'evento e grazie a tutti chi si ha fatto gioire agli olimpiadi e un ragazzo a voi lo conoscete mi sono dato un ragazzo lui deve essere per tutti voi non solo sportivi di judo ma anche per tutti quanti un esempio in vita perché gli avranno detto no, non devi andare a questa olimpia per diventare la prossima poi tu invece hai detto no, io voglio andare a questa e hai fatto bene perché hai creduto in te stesso e hai portato a casa la battaglia d'oro e quindi sei stato bravo e dai un esempio a tutte le persone che devono sempre fare quello che credono e quello che sentono di poter fare senza dei suoi problemi grazie grazie